a questo punto dobbiamo scaricare un plugin che ci serve per questa cosa il plugin si trova sotto gkitab ed è un plugin che si chiama maps model importer questo maps model importer è qui su github blender addon to import models from google maps andiamo sicuramente dentro il github e da qui andiamo fondamentale sotto le interie alle release che sono qua sotto e dobbiamo scaricare la latest che è la 050 possiamo anche andare su releases qua e qui andare a vedere la 050 rc1 e scaricate sicuramente questo maps model importer v050 rc1.zip che sono 7 megabyte io ho già scaricato e poi dovrete andare sotto blender blender io adesso sto usando la versione quindi blender.exe usiamo l'ultima che c'è in questo momento la 3.1.2 lancio questa versione ok quindi vedete che mi parte blender ora dovete andare sotto edit e andate sotto preferences sotto addons e sotto addons dovete dirgli di installare praticamente il questo che sarà un punto zip e quindi andate a fargli l'installazione io questo l'ho già fatto e quindi lo cerco semplicemente maps vi accertate che il import export maps models importer abbia il baffetto qua lo ampliate per maggiore sicurezza mettete debug info debug info perché se succede qualche stranezza abbiamo informazioni di debug scritto nella finestra in cui nella finestra di debug la finestra di debug è questa qua toggle system console quindi la potete accendere e quando si accende questa finestra compare praticamente un'altra adesso prima c'era quindi l'abbiamo tolta quindi la facciamo in nuovo toggle e dovrebbe essere comparsa una finestrella e su questa finestrella compaiono praticamente eventuali informazioni di debug allora per importare la scena che abbiamo visto prima semplicemente cosa facciamo selezioniamo tutto con a facciamo cancella quindi cancelliamo tutto quello che c'è e facciamo sicuramente file import andiamo su google maps capture andiamo su documenti e qui a questo punto abbiamo borgo medievale 43 megabyte e facciamo import di questo signore bisogna avere molta pazienza bisogna aspettare un pochino e dopo un 3 4 secondi se tutto è andato bene dovrebbe cambiare il cursore e per dirci che praticamente sta importando il nostro oggetto vedete che è cambiato il cursore è diventato così ho dovuto aspettare quasi 10 secondi quindi non fatevi prendere dal panico aspettate e dategli tutto il tempo che è necessario comunque ci impiega un po' perché sono 40 megabyte che deve importare ma tutto sommato sono accettabili nel senso che adesso vedrete che tanto che parlo tra 5-10 secondi dovrebbe chiudere purtroppo non abbiamo un avanzamento però sappiate che il tempo è umano anzi è molto rilassante vederlo girare perché vuol dire che sta importando sta lavorando sta facendo tutto quello che è importante per voi vedete che è arrivato il borgo medievale però è bianco nero quindi cosa vuol dire che bianco nero dobbiamo metterlo nell'opzione shading se mettiamo l'opzione shading ci piega un attimo perché deve caricare tutte le texture e vedete che noi abbiamo il borgo medievale ma nello stesso modo potremmo aver importato qualunque altra cosa presente su google maps ok nei prossimi video faremo vedere invece come andare a ottimizzare questa cosa perché se voi andate a vedere in statistics vedete che qui abbiamo 741.000 vertici sono un sacco di mesh tutte staccate vedete che sono tutte staccate una per ciascuna e anche le texture sono una quantità non indifferente insomma e quindi può essere opportuno insomma tanto ci sono veramente tantissime texture che occupano un sacco di spazio quindi per poterlo usare in maniera efficiente ad esempio nei mondi virtuali o da qualche parte bisognerà fare alcune ottimizzazioni dei vertici e delle texture che vedremo nei video successivi ma comunque diciamo la parte fondamentale, la parte interessante, importante e tutto sommato la parte più difficile è fatta, è fatta e quindi complimenti se anche voi siete riusciti a seguirmi potete prendere qualunque monumento e averlo in blender